Finalmente ci siamo riusciti, finalmente siamo tornati a nuovi massimi, con il catarro tra gli occhi che questa mattina vi annuncio che Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico di oltre 75.000 dollari che va a superare il precedente record dei 73.800 dollari che avevamo stabilito a marzo, abbiamo fatto un sacco di mesi di sideways noiosissimi, finalmente qualcosa si sta riprendendo, tutto in seguito ovviamente ai primi esiti delle elezioni statunitensi che vedono Donald Trump attualmente in vantaggio. Nulla è ancora certo, nulla è ancora sicuro, però comunque secondo i dati dell'Association Press Trump ha 198 voti elettorali contro i 112 di Kamala Harris che ci sono anche ancora diverse zone, aree in attesa di risultati, ma la correlazione tra l'aumento del prezzo di Bitcoin e le probabilità di vittoria di Trump sono secondo PoliMarket schiaccianti ed evidenti con una probabilità ormai di oltre, se vediamo qui, il 90% anche addirittura che Trump possa portarsi a casa. Queste elezioni. Il mercato comunque rimane molto volatile ragazzi, qua siamo a 74.389, guardate quanto abbiamo recuperato praticamente dai 66.906, negli ultimi due giorni siamo riusciti a arrivare a noi massimi 75.004. Vediamo, io ho tutti gli alert qua ovviamente perché come già vi ho detto inizierò a scaricare le posizioni da 80.000 dollari, se ci arriviamo ovviamente c'è ancora molta volatilità un po' su tutti gli asset, non è solamente Bitcoin, stiamo vedendo tra poco, andremo a vedere attraverso ogni asset quale tipo di volatilità stiamo avendo, però comunque dopo il tocco della 200 Ema sul 4 ore e la grande ripresa della giornata di ieri, Bitcoin ha tutti i requisiti adesso, soprattutto se verrà confermata con più certezza la vittoria di Trump, avremo ovviamente più room in salita al momento, quindi tenetela conto che ci sono anche molte coperture short al momento che danno delle putta 64.000 dollari, quindi il mercato si sta andando anche a coprire sull'eventualità di una correzione, quindi dobbiamo rimanere attenti e vigili. State molto attenti anche alle altcoins in queste giornate perché potrebbero fare dei movimenti repentini, se Bitcoin dovesse davvero rompere una volta e mai in maniera aggressiva e poi andare sideways potremo vedere anche la dominanza delle altcoins riprendersi perché al momento è ancora molto abbattuta, molto bassa. Come sapete avevo scritto su Twitter, infatti qua ci sono state molte liquidazioni, 74.98 milioni di liquidazioni short, io l'altro ieri avevo detto che ero entrato sulla mia prima shitcoin che è luce, ho fatto questo trade del 4 novembre, sono entrato qui più o meno a 0.016.78 su luce e adesso sto attendendo una ripresa delle altcoins, ho chiuso delle posizioni short, ve le ho messe qua e non andate molto bene, ne ho chiuse altre tre, quindi poi vi aggiornerò anche su quello e per il momento ho approfittato del vantaggio di questa dominanza delle altcoins molto debole, quindi della debolezza, però adesso ne ho chiuso un po' perché comunque se la situazione si ribalta, nel senso che Bitcoin va in ultima e mai, poi inizia a andare sideways e le altcoins si riprendono, potremmo vedere anche una ripresa di Ethereum e così via, Ethereum, Bitcoin e quant'altro. Mentre i mercati azionari continuano ad andare molto forte, l'abbiamo visto anche nella giornata di ieri. Tenete da conto che il dibattito sulle criptovalute ora è molto importante e centrale per molti elettori, con un sondaggio che stima che circa 26 milioni di votanti, che fanno parte di questo blocco di voto cripto, stiano puntando su Trump, Trump che ha promesso di rendere appunto gli Stati Uniti il centro mondiale, se vi ricordate, di Bitcoin e stabilire una riserva nazionale più o meno, una roba del genere. Mentre la Harris ha adottato un approccio più cauto, focalizzato su chiarezza normativa e innovazione responsabile, però già sappiamo che l'amministrazione Biden per Bitcoin non cambia molto. Nel breve termine cambia, perché lo stiamo vedendo sulla volatilità del breve termine, ma sul lungo termine in teoria non cambia poi molto, perché comunque Bitcoin è sempre sopravvissuto, andrà a sopravvivere, non cambia assolutamente niente sul lungo termine. Quindi mettetevele in testa sta cosa, chi vince vince. Questa è proprio speculazione di breve termine. Sicuramente sul breve termine la vittoria di Trump, e lo stiamo vedendo, va a giovare Bitcoin al 100%, perché comunque i Crypto Bro ne hanno un po' più nelle scatole di tutto quello che è Gary Gensler, Elizabeth Warren, tutta quella con la combricola lì di pazzi scatenati, quindi vogliamo vedere sicuramente un cambiamento. Ma non è tutto, come vi dicevo, anche i futures azioni statunitensi sono saliti, mentre arrivano i primi risultati delle elezioni. Ora tutti stiamo monitorando l'equilibrio anche del potere che avrà nel congresso, in cui l'esito può influenzare assolutamente le future politiche di spesa e tassazione, quindi questo è da tenere in considerazione. Sul fronte della politica monetaria, ora tutti i mercati si preparano a una decisione della Fed, che ci sarà tra poco, nei prossimi giorni, con la FOMC. Molti si aspettano ovviamente il taglio di 25 punti base al momento, quindi abbiamo tutta questa serie di informazioni che ci stanno arrivando in un periodo così breve. Abbiamo anche i beni di consumo discrezionali che abbiamo visto, che sono saliti, gli utilities, le tecnologie, tutti i settori sono comunque andati in positivo nella giornata di ieri. Abbiamo avuto Palantir che ha avuto percentuali di oltre il 20%, anche a Steralabs, quindi abbiamo avuto un mercato azionario molto forte, un S&P FF in ripresa, che sta andando anche lui a ripuntare i massimi, quindi sta reagendo bene al momento a questo vantaggio di Donald Trump. Lo stesso vale per il Nasdaq, come stiamo vedendo, vicino a puntare i 20.690 e i 20.789, quindi come vedete abbiamo una bella ripresa anche del Russell 2000, quindi come vi dicevo adesso un ultimai del Russell 2000, unito a un ultimai di Bitcoin, potrebbe darci questo impulso finale di gettata finale, di un volume climax che potrebbe spostarci ancora in alto per magari una, due, tre, qualche settimana di continuazione potente per poi magari poi avere uno scarico, una sorta di sell the news, una sorta di consolidazione che potrebbe arrivare. Comunque adesso ai mercati quello che conta è la certezza, ai mercati non piace l'incertezza, quindi finché c'è certezza state tranquilli che i mercati reagiscono relativamente bene sotto questo punto di vista. Prestiamo attenzione anche al dollaro che è salito oltre l'1%, come vediamo qua, si è avvicinato a quota 105, più o meno, livello più alto da quattro mesi. C'è questa competizione che si gioca ora in sette stati chiave, tornando alle elezioni, e c'è quest'occhio puntato, come già vi dicevo, sul congresso che detterà molto e può influenzare sicuramente le politiche future della spesa e le future legali. Il dollaro negli ultimi tempi, l'abbiamo visto, è stato sostenuto dai cosiddetti Trump trade, ovviamente, perché abbiamo queste politiche che sono percepite come inflazionistiche quelle di Donald Trump e quindi il dollaro si è rafforzato contro tutte le principali valute, contro anche lo yen, poi abbiamo anche l'andamento dello yuan cinese al momento che è vicino ai 7,15 per dollaro e va a riflettere le relazioni del mercato e i risultati preliminari di queste elezioni, giustamente perché ci sono questi dazzi possibili del 60% sui beni cinesi in caso di vittoria di Trump e quindi vanno un po' a pesare sicuramente su quella parte di mercato. Tra l'altro in Cina c'è anche il congresso nazionale del popolo in questi giorni dove si attendono nuove misure fiscali per stimolare l'economia, quindi molto importante anche quel punto di vista lì da osservare dalla parte cinese. Abbiamo osservato anche i rendimenti dei 10 anni che sono saliti ancora al 4,43, i rendimenti dei 13 hanno iniziato a crescere da metà settembre, alimentati anche questi dai Trump trades, dato che le sue politiche sull'immigrazione, dazi e tassi sono percepite come inflazionistiche da molti e quindi insomma c'è questa maggior parte, questa aspettativa di maggiore spesa pubblica e di aumento del debito a Washington che è indipendentemente dal vincitore questo che comunque sta facendo aumentare i rendimenti e quindi anche questa è una cosa che stiamo osservando. Quindi tutto sommato la situazione ragazzi si presenta così abbastanza mista. Andiamo a vedere un po' su MindTheChart.io, tra l'altro ragazzi ricordatevi di iscrivervi alla newsletter di MindTheChart.io che trovate qui, newsletter in cui vi arriva tutte le mattine, quindi rimanete sempre sul pezzo. Date anche un occhio a PacMindToolbox Pro, così potete vedere l'indicatore come funziona di accumulazione e funziona molto bene, qui lo vedete anche sul time frame giornaliero, lo usate solo sul time frame giornaliero, ma vedete le performance su tutti gli asset che ci sono state. Ad ogni modo andiamo a vedere un po' adesso le DLCoins, andiamo su CryptoMap, andiamo a vedere un po' la situazione, infatti vediamo una bella ripresa tutto in verde sulle top 100, andiamo a vedere i trending, vediamo che Peanut rimane ancora in trending, un aumento del 189%, Goat, Doge, Sui, Tramp, Popcat, Sol, Trump ovviamente sta salendo e così via. Ieri abbiamo avuto anche molta volatilità sui DJT, lo stock di Trump che è stato fatto un alt e quindi probabilmente aprirà con un gap up questa mattina, sicuramente, secondo me fatti, e quindi vedremo anche altri titoli che potrebbero salire in contemporanea, tutti quelli relazionati ovviamente a Trump. Comunque generalmente la situazione qui è abbastanza positiva, andiamo a vedere anche gli indici questa mattina come sono messi. La panoramica generale dello stock è in verde, quella di ieri su tutti i settori. Gli indici questa mattina sono, a parte Langsen, Cospi e la Svizzera, eccetera, che hanno chiuso in negativo ieri, tutto il resto è in positivo. Quindi abbiamo una situazione, ragazzi, molto molto positiva sui mercati. Vediamo, vediamo se questo altamai sarà sostenibile e soprattutto se riusciamo a portarci a 80.000 dollari. Una volta arrivati a 80.000 dollari vedremo se su un sideways di Bitcoin anche le altcoins riusciranno a riprendersi. Nel frattempo seguitemi anche su Twitter, se volete, per rimanere un po' aggiornati su come è la situazione. E qui vediamo che comunque Crypto Twitter ormai in queste ultime ore è praticamente tartassato da Trump, da Trump, da tutte queste scene. E quindi incredibile, incredibile. Io sono molto contento se vince Trump, già lo sapete, non l'ho mai nascosta questa cosa. Non me ne frega niente, a differenza di tanti che vogliono rimanere nell'ombra, io ve la dico proprio chiara. Penso che nella vita bisogna prendere una posizione ogni tanto, non si può sempre nascondersi e fare i democristiani e fare sempre contenti tutti. E quindi, secondo me, la vittoria di Donaldo aiuterà generalmente anche la situazione politica in generale del resto del mondo. Ok, quindi andiamo avanti, andiamo avanti e vedremo come andrà. Io vi saluto da qua e tutto. Noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti.